Al Centro Educativo San Gaetano dell'Opera Longuanella di Milano, in 20 anni abbiamo accompagnato più di 1500 ragazzi. Faccio parte dell'equipe di educatori professionali con cui diamo supporto ad adolescenti dagli 11 ai 17 anni e alle loro famiglie. Per ognuno di loro sviluppiamo un progetto educativo personalizzato, con particolare attenzione per i bisogni educativi speciali e dell'apprendimento. Valorizziamo e potenziamo le risorse che ogni ragazzo possiede, prima di tutto prendendoci cura di loro come persone, ancora prima dei loro problemi, seguendo il metodo educativo guanelliano. Sono Ludovico. Sono Noemi. Sono lei. Sono Gaia. Sono Mattia. Noi qui abbiamo avuto la nostra occasione. Dona, un'occasione per crescere a chi non ce l'ha. Grazie.